Allora, adesso parleremo di un argomento che in realtà di psicologo che c'entra, però c'entra, parliamo di PNRR e di digital transformation quindi uno dei, come dire, argomenti che ultimamente stiamo sentendo abbastanza che ci tornano decisamente utili per poter arrivare in azienda, dai clienti e andare a offrire anche una forma di finanziamento al fine proprio di digitalizzare tutti i processi aziendali. Gianni di Plast Innovation è anche lui un partner dell'Associazione U2 Italia per cui Plast Innovation ha sposato i valori dell'associazione quindi è qui oggi anche per questo motivo ma soprattutto per condividere con noi qual è la visione legata al PNRR che è una grossissima opportunità al quale credo che un po' tutti siamo interessati visto che è considerato che possiamo trarre giovamento da quello che vedremo adesso. Ok Gianni, ti lascio la parola, buon lavoro. Va benissimo. Mi sentite tutti? Mi sono appena microfonato, non peraltro. Io vi ringrazio e ovviamente è davvero difficile parlare ora dopo, diciamo, la persona che mi ha preceduto, o meglio, diciamo, il momento che mi ha preceduto perché il Mr. Coffee Break oggettivamente è sempre, diciamo, un momento grandemente amato in tutti i convegni, quindi è proprio complicato. Io vi, diciamo, questo pomeriggio brevemente cercherò di raccontarvi quello che noi stiamo facendo come azienda, quindi vi raccontiamo la nostra esperienza rispetto a questo tema del PNRR e come questa opportunità potrebbe diventare per molti di noi veramente una grande occasione di attività, di lavoro, di business, diciamo così. La nostra azienda si occupa di vari settori, health, digitalizzazione delle imprese, lavoriamo in particolare con l'obiettivo di, come diciamo quasi sempre nel nostro pay-off, migliorare la qualità della vita delle persone attraverso l'innovazione. Un instant marketing, questo sono io, questo simpatico personaggio, non so se conoscete la persona alla vostra sinistra, il nostro amato presidente, mi chiamo Giovanni Riefoli e sono l'amministratore dell'azienda e anche il suo fondatore. Mi sono occupato da sempre di innovazione, facendolo anche per alcune aziende multinazionali che non cito solo per non fare pubblicità, non ho nulla contro le aziende multinazionali amici di Odoo Enterprise, diciamo chiaramente, no, casa madre, lo dico solo veramente per un fatto di, come dire, diamo spazio ai piccoli e anche se diciamo, la vedo un po'. E qual è, diciamo, principalmente di cosa noi ci stiamo occupando oggi? Ci stiamo occupando, ed è una cosa tra virgolette relativamente recente, perché la mia azienda nasce nel 2016, il business, o comunque l'area di business privati nasce di fatto a fine 2019 e quindi nel periodo più incredibile della storia del mondo abbiamo investito nel mondo delle imprese private, quindi nel 2020. E lo abbiamo fatto con un obiettivo chiaro, cioè quello di portare le aziende verso una transizione digitale e soprattutto sfruttando quello che è tutt'oggi un tema caldo che è la 4.0. La nostra vision, ve l'ho raccontata brevissimamente, ovviamente il Presidente Draghi si ispira alla nostra vision nel 2021, poi porta avanti, scherzo chiaramente, porta avanti il piano PNR, il piano nazionale di ripresa e residenza. Qual è, diciamo, il tema caldo? C'è stata, c'è tuttora, non è il caso nostro, cioè non è il caso delle persone che sono in sala, sicuramente una grande crisi, una crisi mondiale, una crisi che è stata economica, finanziaria e questa crisi ovviamente la possiamo subirla o la possiamo ignorare. Noi, devo dire anche in questo, bisogna riconoscerlo, anche diciamo l'aspetto politico di alto livello, di alto profilo, hanno pensato di mettere da parte tutti i provincialismi, tutti i regionalismi per portare avanti un grande progetto di innovazione globale del sistema economico finanziario. È chiaro che nel momento in cui siamo in una fase così difficile, il piano, quello di cui tutti parlano, che è un piano che molti paragonano al famoso piano Marshall, sicuramente voi lo ricorderete, ne avete almeno qualche volta sentito parlare, sono sicuro. Il piano Marshall era un piano che più o meno impegnava 1,2 miliardi di dollari dell'epoca, che è paragonati al PIL di oggi, che è circa 8 volte quello dell'epoca, è alla valuta corrente, cioè al valore di oggi del denaro, che circa 10 volte siamo sull'ordine delle 80-90 miliardi di dollari, quindi espressi in euro siamo più o meno, diciamo, siamo nel paragone grosso modo simile. Quello che invece è il PNRR è un impatto economico finanziario di circa 750 miliardi, quindi stiamo parlando di una cifra inimmaginabile che ci verrà, in qualche maniera passerà, diciamo, sulle nostre teste in qualche maniera e verrà poi assorbita dal terreno che si trova a trovare pronto ad accoglierla. Quindi il nostro lavoro, cioè quello che io, la chiacchierata di oggi, quello che io vorrei condividere con voi è proprio questo, cioè il fatto di cercare di non rimanere, come dire, rinchiusi, ma lo dico senza ovviamente critica, ma con uno spunto di riflessione, rinchiusi nella propria quotidianità, cioè appoggiati al proprio computer, alla propria postazione, piuttosto che al proprio bacino di utenti e di clienti, ma cercare di ampliare il più possibile la possibilità, come dire, il più possibile lo sguardo, quindi con i piedi ben piantati sulla terra, perché poi è quello che ci dà il nostro pane quotidiano, ma con lo sguardo sempre rivolto più in alto, perché è lì che dobbiamo guardare, in questo momento noi siamo giù, ma su c'è un mondo che si sta realizzando, che si sta, come dire, aprendo, schiudendo, un mondo di opportunità. E quindi le due parole, diciamo, che fanno, come dire, che un po' raccontano di che cosa è il PNR, le conosciamo tutti, cioè ripartenza e resilienza. Peraltro la resilienza, lo sapete bene, perché ormai è un termine così abusato, io penso che chiunque, chiunque l'abbia sentito citare più di una volta, sono addirittura più volte al giorno. Io purtroppo da, diciamo, non voglio dire vecchio, ma sicuramente da anziano studente di ingegneria, la resilienza la conosco da parecchi anni, perché la resilienza era proprio questa capacità del materiale di resistere alla sollecitazione meccanica. Cioè qualunque materiale, una volta che viene impattato in qualche maniera, a seconda di come reagisce, si misura il grado di resilienza. Questo è quello che dice la teoria nella meccanica. Nella realtà la resilienza, noi la vediamo tutti i giorni, la vediamo nella cosa più bella che c'è, che è la natura, ed è quella capacità della natura di resistere alle cose più incredibili e di combattere e reagire a quello che accade. Questa resilienza, questa capacità di reagire, è quello che fa di noi delle persone capaci di fare l'impossibile. Questo è quello che ci viene chiesto in un momento, tra l'altro, anche difficile, perché chi fa informatica non sta penando come tutte le altre, diciamo, ambiti dell'economia. Noi abbiamo altri problemi, per esempio abbiamo il problema di cercare risorse, di trovarle, ed è proprio su questo che dobbiamo poi invece costruire la nostra capacità di agire oggi, almeno per come la vedo io. Cioè noi non abbiamo il problema di, come dire, paradossalmente abbiamo il problema al contrario, cioè di chiudere il lavoro, di chiudere nel senso di andarlo a fatturare, di portarlo a compimento, perché in effetti di lavoro ce n'è fin troppo. Quindi quello che in qualche maniera è impossibile, o appare impossibile, noi lo dobbiamo rendere possibile. E cosa rende impossibile il possibile? Semplicemente l'esserci, cioè il soggetto, perché quello che c'è oggi nella realtà, quello che vediamo, è che esistono moltissimi progetti, ma veramente davvero pochi soggetti che sono in grado di prenderli e portarli a compimento, portare in pratica quello che poi a noi interessa è la fatturazione. Lo dico in maniera, può sembrare filosofia, ma non è filosofia. Questo è ciò che rende il cambiamento possibile, in questo momento di grande sfida, ed è la persona. Cioè ognuno di noi che si mette in gioco personalmente fa squadra, perché effettivamente non c'è un'altra possibilità. Entriamo nel tecnicismo. Il PNR, lo sapete bene, nasce dopo la pandemia, c'era già nell'area, voi lo sapete, c'era già nell'area, c'è stata la crisi delle banche, ci sono stati tanti momenti di crisi nell'ultimo decennio, sicuramente dopo la pandemia si è scosso qualcosa, per cui hanno deciso di fare questo investimento. Io su questa cosa vi invito a fare una riflessione rispetto a quello che vi dicevo prima, cioè stiamo parlando di una cifra inimmaginabile, poi si può criticare, si può fare tanta polemica, sappiamo che c'è tanta gente che critica, però questi sono i numeri. La cosa interessante su cui porre l'attenzione è che tra i vari assi, quelli principali, quelli più finanziati sono la transizione digitale, l'innovazione, la transizione ecologica, l'inclusione sociale e l'equilibrio territoriale. In particolare le sei missioni, che sono quelle che vedete sulla sinistra, questi sono i documenti ufficiali, delle sei missioni, quelle che sono più interessanti sono sicuramente la digitalizzazione, che addirittura porta il 40,32 miliardi di euro di investimento, cioè significa più del 25% del valore complessivo dell'investimento. Considerate che quell'importo è inferiore a quello precedente perché c'è un fondo di compensazione che verrà poi investito direttamente dall'Italia, io sto parlando solo della parte europea, diciamo così. Considerate anche che un altro elemento determinante, un altro di grande valore è l'impatto della transizione verde e la transizione verde comunque porta sempre con sé una componente tecnologica, cioè è impossibile immaginare una transizione verde senza una componente tecnologica, per cui una riflessione da fare, da fare insieme e l'obiettivo di questo mio brevissimo speech è quello di consentirvi anche di aprire la mente rispetto al fatto, scusate se lo dico, non vuole essere una condivisione, non l'altro, rispetto al fatto che magari oggi noi ci occupiamo di alcuni elementi, però non guardiamo che fra un anno, due anni noi ci troveremo ad avere richieste dai clienti su cose che oggi non immaginiamo assolutamente, tipo per esempio un sistema per la gestione dei rifiuti, un sistema per la gestione della transizione verde, un sistema, non lo so, argomenti di questo tipo. Che cos'è la transizione digitale? Che è quello che poi a noi interessa, ovviamente non lo devo spiegare a voi, io penso che voi potreste parlare cinque ore di transizione digitale, però io dico un'immagine poi vale più di mille parole, quando è stato eletto Papa Benedetto XVI, questo era quello che accadeva in piazza nel 2005, quando è stato eletto Papa Francesco nel 2013, pochi anni dopo, questo è quello che accadeva, cioè praticamente il mondo era completamente cambiato, in pochi anni non c'era nessuno che stesse lì a riprendere con uno smartphone, un telefonino, che non desse in qualche maniera l'evidenza del fatto che il mondo era cambiato. Non faccio esempi su mio figlio che praticamente dato giorno gli ho regalato la PS5, introvabile però per un evento molto particolare, e mi ha detto a dieci anni, papà però scusami la versione digital non è retrocompatibile con la PS4, sarebbe stato più potuto prendere la PS4, se non la finisci ti uccido. Brava, te la ritiro. La transizione digitale, il piano di transizione digitale ovviamente, perché ho visto che tra l'altro c'è un'azienda che ha esposto delle informazioni relative alla 4.0, è l'evoluzione di quello che è stata la 4.0, la 4.0 è stata ed è tuttora estremamente interessante, quello che accadrà, molto di quello che accadrà non è stato scritto, o meglio è nella mente ma non è stato, non ci sono dei decreti attuativi, quindi non abbiamo la certezza, però quello che accadrà che per esempio, un esempio fra tutti, il software 4.0 oggi è possibile portarlo a credito di imposta per il 20%, come penso voi sappiate, e probabilmente queste percentuali aumenteranno, per cui oggi proporre, non so, quanti di voi scusate sanno che cos'è la 4.0 in generale? Andrei a cometa? Va bene, giustamente c'è una larga fetta di ragazzi che non lo sanno, vabbè, intanto vado alla sintesi, la 4.0 è stata un'invenzione di un ministro che purtroppo, come tutte le cose intelligenti, poi l'hanno fatto fuori dopo 5 minuti, e praticamente ha importato un modello molto interessante, che è quello di incentivare l'innovazione, mediante non presento il progetto, mi approvano il progetto, poi c'è uno che lo discute, ma semplicemente con un credito di imposta, che significa che le imprese che avevano una base imponibile positiva, cioè in pratica le imprese che funzionano e che pagano le tasse, possono andare a pagare meno tasse se fanno un'innovazione, questo in estrema sintesi è la 4.0. E' chiaro che in futuro, cioè negli anni 2021, 2022, fino al 2026, questi tipi di incentivi aumenteranno, per cui sarà indispensabile avere aziende pronte, quindi noi, pronte ad essere lì sul mercato a proporsi con idee, innovazioni e altri tipi di proposizioni che siano compatibili con quello che arriverà, come controproposta da parte del Ministero. Ovviamente, vabbè, è chiaro, l'altro aspetto interessante, e lo dico per chi già lo fa, o comunque ve lo faccio presente, è il tema dei beni, dei beni strumentali, un grande macro tema che probabilmente a molti di noi non interessa in senso stretto, perché magari molti di noi non vendono macchine 4.0, però è interessante che tutto il tema della possibilità di accedere al credito d'imposta per i beni strumentali è correlato all'interconnessione con un software che sia 4.0. Come sa bene Adriano, che è qui in prima fila a prendere appunti, non so scherzare, questo è un tema che noi stiamo affrontando su vari clienti, perché molti clienti che hanno acquisito delle macchine 4.0 ci chiedono di interconnettere con un applicativo, con l'IRP, o comunque con un modulo dell'IRP, ovviamente. Questo è quello che praticamente vi dicevo prima, in sostanza sono le tre linee fondamentali su cui ci possiamo muovere tutti, e siamo ovviamente a disposizione su questo anche per darvi massimo disponibilità a diffondere conoscenza sul tema, è evidente che l'argomento è di estremo interesse perché significa che si può andare in un'azienda a proporre una innovazione senza che questa azienda in qualche maniera sia necessariamente coinvolta in una, come dire, in sostanza nel dover spendere soldi, in parole semplici, cioè possiamo coinvolgere in un processo di innovazione un'azienda praticamente a costo zero, e questo è un grande valore aggiunto, cioè ci consente oggi di proporre delle idee innovative in collaborazione con le aziende che a quel punto non diventano più clienti, sembra una banalità, sembra una cosa scontata, ma diventano partner, perché di fatto loro condividono con te un percorso che non è più un percorso di una semplice installazione, ma diventa un percorso che loro già sanno a monte, che avrà la durata di un certo numero di anni. Questa è la nostra modalità, cioè questo è il metodo mediante il quale noi ci proponiamo, voglio chiarirvi che non sto facendo pubblicità a PlasinoVision, cioè sto semplicemente trasferendomi in una modalità che è condivisibile, tra l'altro alcune di queste riflessioni voi almeno operativamente già le fate, che è tutto il tema della gap analysis, se no tutto il tema dell'analisi iniziale preliminare di quella che è l'organizzazione dell'azienda che poi deve essere trasferita nel sistema. Noi abbiamo fatto semplicemente un piccolo passo indietro e in maniera un po' strabica abbiamo con un occhio cercato di posizionarci su quella che è l'operatività dell'azienda e guardando un po' oltre cercando di posizionarci su quello che può essere l'obiettivo a medio e lungo termine dell'azienda. E quindi quando facciamo il check up iniziale cerchiamo di guardare non solo a quello che è il bisogno immediato, cioè risolvere il problema della logistica piuttosto che i cespiti che sono un annoso problema per le nostre aziende, ma anche cercare di in qualche maniera affrontare il futuro dell'innovazione digitale, che poi è quello che ci stanno chiedendo tutti, perché il problema delle nostre aziende e clienti è quello di aver perso mercato, è quello di aver perso clienti, è quello di avere una difficoltà nell'aggressione di eventi esterni, tra cui anche chiaramente la pandemia. Gli strumenti, le entry point, il ciclo, io non ve lo evito di descriverlo nel dettaglio solo per non allungare, però penso sia chiaro, poi si dicono domande sono a disposizione. Gli entry point ovviamente sono tutti quegli strumenti che ci consentono di finanziare l'innovazione, quindi i bandi del ministero, formazione 4.0, in Puglia devo dire ancora oggi esistono tante forme di finanziamento molto interessanti, di no process, ci sono una serie di strumenti che noi utilizziamo, io adesso so benissimo che c'è anche una famosa frase citata più e più volte, che diceva, la cito, ma ragazzi non avrà male il mio inglese, non è perfetto, che revenue is vanity, profit is sanity e cash flow is reality. Noi come azienda siamo in un anno da zero, quest'anno abbiamo, penso che chiuderemo a circa 600 mila euro di fatturato solo sulle aziende private, quindi non è vanità il fatturato, è semplicemente una descrizione di un metodo che comunque sta funzionando, per cui noi lo vogliamo condividere. To do list, lo dico anche agli amici di UDU, se volete prendere spunto, to do list, non lo sapevo, non l'ho mai vista, va bene, detta ciò, condivisione, io per questo ringrazio Andrea, che adesso ovviamente è scappato perché l'intervento non è interessato, allora ringrazio per l'invito, ed è quello che diceva Andrea Cometa all'inizio, cioè effettivamente la condivisione è la prima cosa, cioè condividere è fondamentale, cioè non possiamo pensare, io tra l'altro non sono nessuno nell'associazione, cioè veramente credetemi, semplicemente sono amico di questi due simpatici e raggianti... Vabbè, conoscente, di questi due simpaticoni. Condivisione, quindi io devo dire sposo in pieno la filosofia dell'associazione, come in qualche modo mi sento onorato di poter aderire a questa associazione, la cooperazione, in cui io credo molto, per cui il mio intervento di oggi serve solo a dirvi, io credo nella cooperazione, mettiamoci insieme, facciamo task comuni, condividiamoli, il cliente ovviamente di chi, tra virgolette, lo prende, come nella foresta il cliente di chi, diciamo, agguanta l'animale, è chiaro, però dopodiché poi ci si può sedere, ognuno di noi si può tranquillamente, diciamo, accomodare alla cena, è sicuramente una rete, perché se noi non creiamo una strutturazione, ma questo ovviamente poi dipende dalle scelte di ciascuno, una strutturazione con una condivisione e con un chiaro meccanismo di ingaggio che possa poi condividere l'operatività, noi ci vedremo sorclassati da tanti soggetti che interverranno sul territorio, voi pensate, io parlo della Regione Puglia, voi pensate che in Regione Puglia praticamente ormai tutte le più grandi aziende multinazionali stanno arrivando, c'è arrivata adesso l'ultimissima Microsoft che ha deciso di investire in Puglia, assumere tipo 80 persone, ma ogni giorno mi arriva la notizia, Ernest Young, 200 persone, quindi stiamo parlando di un territorio che è molto ambito, per cui succederà chiaramente che aziende come le nostre non hanno molta speranza di poter crescere se non ci si mette insieme e non si fa come dire in fronte comune. Ovviamente io vi ringrazio, questo credo che però loro non è registrata questa, Odù aiutaci tu, non credo sia registrata, questa no? Ed è effettivamente quello, diciamo, il nostro auspicio. La sto twittando, la sto twittando. La sei twittando? Eh, twittele, vai tranquillo. Io vi ringrazio ovviamente, ringrazio tutti, ringrazio in particolare Andrea, Marco, Sergio, tesoriere, tesoriere, va sempre, ringraziamo sempre, tesoriere, va ringraziato per definizione, e vi invito soprattutto le giovani promesse che sono lì in fondo alla sala, che poi non capisco perché come in chiesa, chi mai ha frequentato una chiesa, tu entri, ti metti sempre dietro. Oppure sui pullman delle gite, perché come se il prete ti fanno ti fa la corsa ad andare in fondo. Ragazzi, mettetevi avanti, voglio dire, comunque ringrazio anche voi, cioè nel senso, perché ringrazio loro in particolare? Perché loro saranno il nostro futuro e saranno coloro che renderanno possibile tutte queste, che tutti questi 750 miliardi di euro potranno essere poi messi a terra realmente. Quindi se ci sono, anche fra questi ragazzi, persone interessate a iniziare un percorso di formazione, di condivisione, non stiamo parlando di stage formativi a 400 euro al giorno, scusatemi, al mese, stiamo parlando di un percorso reale di formazione. Forse al giorno vorrei io a fare lo stage dal giorno. Sì, assoluto, Presidente. E' loce. Allora, io vi ringrazio e ovviamente sono a disposizione per domande, ma so che non ce ne sono, per cui... No, no, stai che qua è tutto organizzato, vai. Quella domanda scomoda devi fare? Sì, sì, è già spento tutto. No, no, è semplice. Cosa c'entra UDU? Nella tua realtà, voglio dire. Scusami. Tutto il tema dell'innovazione sulle imprese si basa su UDU. Sì. No, scusami, il contrario. Allora, noi abbiamo cominciato a novembre 2019 una attività di scouting delle soluzioni che ritenevamo potessero essere... Scusami, facciamo un passo in giro. Sì, sì, sì. Chiarisco, chiarisco. Noi nasciamo nel 2016. Io avevo un obiettivo nel 2016 che era quello di fare telemedicina ad un certo livello e con un certo approccio. E soprattutto utilizzare i dati della telemedicina che raccoglievamo mediante algoritmi di intelligenza artificiale per fare analisi predittiva. Questo era l'inizio, però non voglio adesso tediarvi in ulteriori. Ok. Poi l'azienda evolve, eccetera. Nel 2019, novembre 2019, quindi prima della pandemia, prima di tante cose che sarebbero accadute, iniziamo a guardarci attorno e cerchiamo una soluzione che ci sembrava interessante. Abbiamo visionato varie... Io poi non sono tecnico, però abbiamo iniziato a guardarci attorno. Poi abbiamo cominciato un rapporto con Andrea, con Giuseppe, cioè abbiamo iniziato ad entrare un po' meglio nel mondo 2 e da lì in poi abbiamo cominciato di pari passo a studiare questa formula, che è quella che abbiamo, che vi ho indicato, che è quella di portare all'azienda l'innovazione mediante l'introduzione di meccanismi di finanziamento. Perché il tema delle aziende, c'è l'azienda grande, strutturata, che ha voglia di investire, che ha voglia di fare progetti, ce ne sono grazie a Dio, ma ci sono molte aziende che invece hanno bisogno di innovazione, ma non hanno la capacità finanziaria per governare questo processo. Per cui abbiamo portato di pari passo da una parte una modalità operativa e progettuale e dall'altra una modalità tecnica esecutiva. Quindi il combinato disposto di queste due cose ci ha consentito oggi di dire UDU aiutaci tu, perché con UDU, è una battuta, ma l'abbiamo reso reale. È chiaro che adesso abbiamo un problema che hanno tutti, non siamo gli unici, che è quello di individuare risorse in grado di seguire questi processi, perché oggi abbiamo un ordinato che è molto molto grande e abbiamo la necessità di mettere a terra questo ordinato con professionalità. Ed è importante quel discorso della logica della condivisione, dal mio punto di vista poi taccio, non voglio fare un comizio, è importante perché effettivamente conoscendosi, perché poi sì si può fare il marketplace, però io credo che molto passi da un rapporto anche di conoscenza, non dico personale, ma quasi. E quindi è importante anche capire le soluzioni che sono pronte e disponibili all'uso, perché da là si può costruire poi un progetto comune. Si prende la grande distribuzione, noi abbiamo 6-7 soggetti che fanno grande distribuzione in Puglia con i quali stiamo avviando un processo, ma noi non siamo esperti di grande distribuzione, per cui trovare delle soluzioni già predispose sarebbe l'ideale. Faccio un esempio, ma come questo ce ne sono altre, sulla logistica, noi abbiamo 2-3 soggetti che fanno logistica e quindi stiamo nel frattempo, abbiamo preso contatti anche con Andrea, con Stia, non so se si possono fare i nomi, non lo so. Tanto ci conosciamo tutti. La pubblicità culta, quelle cose. Ok. Ho risposto? Altre domande? Va bene. Lui ce l'ha sempre in tasca la domanda. Immagino che tu sei di queste parti, giusto? Si si. Si sente l'accento nordico. Se un partner italiano è interessato a tutte queste ipotesi di crescita, eccetera, però è da un'altra parte d'Italia, voi seguite anche altre parti d'Italia? Si si. In che modo o che supporto possiamo condividere? Allora, le misure di cui abbiamo parlato hanno letto di una sola misura che si chiama il no process, che è un mando regionale, le misure, tutto quello che hai visto è un argomento che viene affrontato a livello nazionale. No, 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 no. Ci sono delle piccole variazioni, per esempio, ovviamente, le regioni del sud sono in qualche maniera avvantaggiate. Ok, questo è chiaro. Non me ne vorrei, ma ho capito che tu non sei esattamente di Cefalù, diciamo. No, lui è di Barletta. Eh? Lui è di Barletta. Di Barletta, io sono di Barletta. Dove stai Barletta? Eccoli là, i miei amici di Barletta, ci siamo scoperti conterranei. Quindi, praticamente, è chiaro che, cioè, voglio dirti, non c'è una tipicizzazione locale se non, per esempio, le percentuali, cioè, per esempio, la 4.0 beni strumentali, 45% al sud, 10, mi sembra, 100% al nord, cioè, ci sono delle differenze, ok? Però sono tutte da studiare. Quando comunque noi facciamo un progetto, cerchiamo comunque di calarlo nella realtà. E quindi noi, infatti, adesso, per esempio, stiamo collaborando anche con delle realtà della Lombardia, ok? Che sono fuori, diciamo, dal circuito strutturato UDU, cioè, dall'associazione, sono degli studi o comunque dei commercialisti con i quali stiamo avviando dei ragionamenti, per cui loro ci stanno portando su queste imprese. Per cui ti dico, Maria, molto chiara e trasparente, tanto, voglio dire, il bigliettino, cioè, ci scambiamo, voglio dire, puoi tranquillamente contattarci o tramite Andrea, voglio dire, in modo si trova. Vabbè, stai nella lista partner dell'associazione, per cui... Sì, sì, dico. Però ci sono i bigliettini. Le penne sono andate a ruba, ma i bigliettini ci sono tutti. Poi, decidete... C'è qualche... Abbiamo portato 100 penne e 100 bigliettini. Ma quelle, infatti, bigliettini più le penne sono andate a ruba. Altre domande? Firenze, domande? Chi è di Firenze? Ah, sei tu, allora, eh? L'abbiamo riconosciuto. Stamattina ti sei pettinato con le miccette, ti ho visto. Diciamo che l'argomento... Eh? Cos'è? Che è combinato? Ho detto, stamattina ti sei pettinato, tu che puoi, tu che puoi. Tu lo sai perché io ho più di me? No? Perché sono sempre dritto e avvanto. Bravo! Perché lo sguardo è rivolto verso l'alto. Dicevo, no, no, c'ho il micro. Io posso continuare, per cui è meglio che vado via. L'argomento si va a innestare, diciamo, in tutto un discorso che abbiamo cercato di incastrare nella seconda parte di questa giornata. Infatti adesso verrà anche Antonello o Ventre a parlarci di formazione 4.0. Perché? Perché in qualche modo troviamo la possibilità di portare la soluzione finanziata presso l'alzino. Noi diamo odù, portiamo innovazione e tecnologia, però è utile affiancare a questo anche una soluzione di finanziamento. In maniera tale che se un'azienda deve fare un grosso investimento, noi abbiamo pure gli strumenti per poterglielo far sostenere, no? A questo punto. Perché diversamente si potrebbe pure perdere il cliente, oppure rallentare il processo di implementazione. Per cui sono tutti argomenti che in qualche modo, non dico che ci toccano di sfiscio, però dobbiamo avere contessa di quello che abbiamo come possibilità da riportare sui clienti. Loro, insomma, hanno una buona esperienza su questo, per cui all'interno del nostro gruppo, della nostra squadra, possono essere un punto di riferimento. Ecco, è arrivata la domanda. Lo hai stimolato? Vai. Mi ha chiamato un causa, quindi è la prima volta e faccio complimenti. Se posso essere utile in funzione a quello che hai detto, se hai visto in qualche modo sono coinvolto, molto probabilmente, non so se lo sapete, ma da alcune, mi sembrano una settimana, sette giorni, che sì, Mestesace, ha una serie di prodotti che fanno esattamente questo che un po' si diceva. Abbinando però anche la concretezza dell'azienda per l'internazionalizzazione, per esempio c'è un prodotto solo per l'e-commerce che abbina l'internazionalizzazione insieme a ICE o piuttosto anche l'innovazione proprio tecnica di macchinari, nei gestionali o l'entumaschina e il collegamento in remoto e roba del genere. E sono con una media a grandi linee di 25% a fondo perduto. C'è solo una media degli ultimi due bilanci che vanno a prendere il 20% sul massimo di erogato e su questo viene calcolato il 25%. Tra l'altro anche senza garanzio, la da medio credito e roba del genere. Quindi ecco, se può essere utile, è uscito da una settimana ed pochissimi lo sanno perché sto PNR sta arrivando ora, ma ancora le piattaforme sia del governo in senso lato e a cascata le associazioni della teoria ancora non sono pronte e c'è molta ignoranza e resilienza. Poi nel settore manifatturiero ancora di più. E' così. Ecco perché mettersi insieme aiuta, perché noi per esempio siamo proprio sul pezzo, ogni giorno siamo lì, guardiamo, io non sono entrato nello specifico delle singole misure per evitare di fare un convegno tecnico, però sì, ti ringrazio. Sì, sì, lo so, lo so, l'abbiamo studiato. Va bene, grazie. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie Gianni.